Burletto 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 Grazie. Adesso togliamo la lente e il retino e spendiamo in maniera normale. Grazie. 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 Sperate di uscire. Di qua si, di la eh. Sono entrato di straforno, non so se si può. Comunque mi ho messo abbastanza bene, relativamente parlando, in maniera un po' strana, vero o no? Non è in sintonia con quello che fu, comunque, vero o no? È strano, no? Sì, secondo me stona pochissimo. Eh beh, esatto. Non c'è un consiglio. Esatto, esatto. Non c'è nessun tipo di spirito di cercare di… Quando si fa un restauro di una cosa così, bisognerebbe rispettare. Esatto, esatto, no? Non si lascia tutto com'è. Esatto, esatto, esatto. A San Sforzesco hanno cercato un pochino a Milano, hanno cercato un pochino di mettere assieme, anche di fingendo un po' però, e qua invece ha messo il muro, basta. È il muro del pianto. Esatto, esatto. Adesso provo di uscire a vedere se… Anche per Torrione, dai. Eh, appunto, appunto, è così strano. Avranno rispettato qualcosa del passato, non lo so che… Appunto, appunto, non so a quale cosa si sono riferiti, ma… Vabbè, ma anche questi architetti moderni, così, tipo Gavolenti, non so, bisogna avere anche un po' di spirito, no? Ma c'è, non ha senso. È putto, è putto, non potevano lasciar stare, era più belli i ruderi, più assani, originali. Esatto, esatto. Allora, in Italia magari i suoi ciosi incidenti. Esatto, esatto. Vabbè. Però, certo, così non è stato un bellissimo. Esatto, esatto. Vabbè. Buongiorno, arrivederla. Grazie. 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 Grazie a tutti, anche al spirito di come fu costretta questa, questa rocca a mio pare. Comunque… Non è sempre un architetto, non è sempre… un figlio di averio. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.